ok video al volo sono stato contattato dai cazzoni qua vivi uno di loro è venuto a pisciare qua in casa mia lui si chiama gianluca senza nome senza cognome senza faccia e dice a me che non le palle per confrontare vivi e mi ha detto perché non vieni da noi così praticamente io entro nel loro canale e loro ti danno il permesso per parlare ma cioè io dovrei andare da questi cazzoni qua per parlare e così ti togli tutti i dubbi dice gianluca senza nome senza cognome e senza faccia ciao marcel con la v di satana qua vieni in chat vocale sul nostro canale così ti togli tutti i dubbi di solito chi critica cerca anche un confronto ma chi cazzo pesa in cula coglioni che cazzo di confronto devo avere con dei dementi come voi ti sento all'altezza fallo almeno per i membri della tua chat altrimenti potresti credibilità non credi prof allora coglioni a me di questi 20 20 persone che mi seguono qua su telegram e dei 400 zombie che mi seguono su youtube non me ne fotta un cazzo molti di loro vedono i miei video per intrattenimento molti di loro sono già ariani cioè hanno preso il succo magico a me non me ne fotta un cazzo io parlo perché voglio parlare per una libertà mia voglio parlare e loro non mi controllano quindi se tu mi dici questa cosa qua vieni qua nel canale mio mi dici credi che a me me ne fotta un cazzo del del pensiero di chi mi guarda molti dei quali come ho detto sono dementi che guardano solo per intrattenimento i miei video non me ne fotta un cazzo non credi prof capito questo è venuto nel mio canale e ha vomitato il link di questi dementi qua vivi o forse parli di noi solo per far crescere la tua chat coglione a differenza vostra a me non è fatto un cazzo dei numeri dementi io sono libero nessuno mi controlla né i subscribers né nessuno sono libero coglione e morirò libero ci metto la faccia quando faccio i video dementi non come voi nascosti che non si sa chi cazzo siete eh io lo so chi siete voi l'ho già detto non vado a perdere tempo eh come fai tu a sapere che marcel come fai tu a sapere eh che loro sono del sistema perché io conosco l'essere umano l'essere umano non vorrebbe fare niente ragazzi l'essere umano vuole una vita tranquilla ma te lo dico perché anch'io sono così anch'io sono un senza palle alla fine quindi te lo dico e chiunque crea qualcosa come vedremo adesso che hanno questi scrivono fanno e nessuno li prende però guarda caso nessuno gli fa niente è sempre il sistema come l'undici settembre no chi cazzo farebbe una cosa di andare e fare quel casino che è stato l'undici settembre ma chi cazzo c'è e addirittura morire per fare quella cosa là l'uomo non lo farebbe la pecora il popolo non lo farebbe mai una cosa del genere la pecora vuole scopare mangiare e dormire tutto qua e per questo finiremo perché se se tu non hai convinzioni dove tu dici no io non farò questa cosa perché altrimenti insomma diventa una bestia non ho più nessun ideale è finita se tu non hai un ideale oltre al mangiare scopare bere sei morto come se come lo siamo noi adesso quindi andiamo e questo è il link loro intanto adesso possiamo vedere così live se tante volte questo demente qua che è venuto a scrivere sulla mia chat qua risponde io ho scritto qua stamattina tu hai dubbi sui miei video no perché questi mi invitano a casa loro no dove ovviamente io sono un coglione a parte che tu già il fatto che tu vai a casa loro ma tu voi siete cioè dovrei dire quello che penso di loro no ovviamente loro si mettono a ridire ma io non ho dubbi sui loro perché devo andare io in casa loro perché qualcuno mi dice ah tu butti il sasso nascondi la mano quei tuoi video ma che cazzo dici io ci metto la faccia nei video a differenza vostra dementi che state nascosti là non fate mai vedere la faccia e io ho scritto perché lui mi ha scritto no come avevo fatto vedi tu hai dubbi se hai dubbi vieni che te li schiariamo noi là nella loro chat dove tu devi chiedere permesso per parlare capito ti concedo un po del mio tempo io ho scritto stamattina dimmi cosa non ti è chiaro questa conversazione sarà registrata da me e diventerà un video vai difendi le idee di vomito di vc cosa hai da ridire su quello che che dico nei miei video punto per punto non così a cazzo che attacchi la persona come ovviamente fanno e questa gente ragazzi non attaccherà mai quello che dico io nel video ma attaccheranno me oppure mi faranno chiudere o entreranno nel mio computer faranno quello che cazzo venite a avere pure il pelle del culo e leccateli pure testa di cazzo perché sono zozzoni ragazzi sono zozzoni del sistema o oppure sono dei coglioni che vanno dietro a questi cazzoni del sistema dei coglioni che si credono no che stanno cambiando le cose mentre magari sono triplo succo magificati super ariani super saian super ariani sono questi già me li immagino tamponati inculati tutto quanto e fanno i duri questi questi dementi e poi ho scritto quello che mi ha scritto lui a me di solito chi critica cerca anche un confronto ti senti l'altezza potevo anche evitarlo questo hai le palle di dire chi sei di metterci la faccia come faccio io e poi ho scritto sono le 8 e 08 vediamo a che ora si alza un guerriero indaffarato e adesso sono le 8 e mezza e il guerriero forse a causa del succo magico ha preso è un po lento e dorme un po tanto ancora non mi sta rispondendo ma noi andiamo avanti con la magia qua di questi clown intanto prima prima che vada avanti intanto il link loro telegram che ho già decifrato tutta una cosa massone satanica massonica vedete i video inc e io lo decifro così vermi perché stanno sempre nascosti vigliacchi perché non hanno le palle di dire le loro convinzioni apertamente in faccia alla gente ma gli scrivono sui muri se ne vanno che cazzo fai demente ma poi che cazzo scrivono poi ai morti dementi vermi vigliacchi vivi che il big brother cioè quello che non si fa mai vedere che è il sistema al modo di per dire io facevo il grafico così vendevo contattavo gente così online in modo così a nero come direbbe il sistema e gli facevo un logo e loro tramite email per dire mi pagavano eccetera eccetera c'era il rischio però che il sistema mi veniva anche se facevo tutto in modo anonimo tutto tutto in modo così nascosto no 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 nel senso privato c'era il rischio che il sistema si accorgeva che io prendevo dei soldi e mi chiedeva le tasse quindi immaginiamo il sistema ha il modo di trovare uno stronzo come me che ha venduto un logo per per 200 euro per dire no che i prezzi facevo e di tassare me quindi di trovarmi e non ha modo di trovare questi cazzoni che vanno anche su rete 4 dove gli intervistano e il sistema proprio non riesce a capire da dove arriva il segnale nell'era di internet ragazzi di tutta questa tecnologia che loro praticamente possono fare di tutto contare i peli del culo che abbiamo non riescono a trovare da dove arriva vivi siete dei coglioni adesso vi faccio un esempio chiaro chiaro così capite c'è l'esempio no della che tu puoi fare fare a un animale o con la frusta o con la bastone carota no cioè o premi un comportamento o lo punisci in questo modo loro hanno il modo di fare quello che vogliono con questa fattoria che hanno punendo o premiando noi dementi che non abbiamo convinzioni ideali che siamo pronti a morire per quei per quegli ideali e quindi loro possono farci fare quello che vogliono mettetevelo in testa questo finché tu non sei disposto a morire per i tuoi ideali voi siete già morti per questo vi dico che siamo già morti ragazzi perché neanche io sono pronto per morire capito siamo già morti ragazzi qui pochi quelle poche persone durante la storia dell'uomo che hanno avuto la convinzione di morire per quello che credevano sono morti liberi ragazzi noi siamo già finiti siamo morti non c'è nessuno ci hanno fatto sta cosa nel 2020 ragazzi nessuno ha fatto niente siamo finiti ragazzi come diceva d'americo sì loro possono tipo togliere questo cazzo che entra nel nostro culo d'estate poi rimetterlo quando arriva l'inverno e quindi ridevamo con americo no questa analogia perché è un po ti dà anche più piacere no questo cazzo che entra esce entra esce no invece se entra e basta tu non e loro te lo mettono te lo tolgo te lo mettono te lo tolgo e si arriva alla fine che verrai violentato da questa penetrazione un po tosta esempio di questo bastone carota per dire il sistema siccome userà questa scusa di inquinamento ambientale fra poco per toglierci anche quel minimo che abbiamo lascia che la pecora inquini quando tu giri in montagna per dire tu vedi frigoriferi buttati nei fossi nelle montagne anche nei posti più puliti ho visto la peggio merda che la gente butta tu pensi che la gente lo farebbe se loro ti punissero ovviamente no pegorella quindi loro ti fanno fare per dire anche vivi per dire può benissimo essere fatto non dal sistema ma da noi con gli uccelli ma non li puniscono ragazzi questa gente va fanno tante cose che secondo me non è violenza scrivere nei muri per me non è violenza per me è violenza quando ammazzi qualcuno quando freghi qualcuno quando danneggi la proprietà di qualcuno questa non è violenza ma comunque sia secondo le leggi attuali questi qua dovrebbero essere puniti in qualche modo oppure presi fermati in qualche modo ma non succede e quindi per dire quindi loro magari sono gente che ha la convinzione di fare qualcosa di giusto anche se io non lo condivido perché non puoi fare una cosa non puoi combattere questo nemico che abbiamo scrivendo sui muri diciamo è veramente da dementi comunque sia li lasciano fare e il fatto che li lasciano fare faccio un altro esempio significa che loro li vogliono sono funzionali al sistema faccio un altro esempio gli albanesi ragazzi voi pensate dell'albanese in sé è cattivo? no pecorella purtroppo ti spiego io sono nato in albania pecorella come sai i primi dieci anni della mia vita li ho passati in albania albania dove se tu rubavi o sfioravi un altro essere umano venivi appeso per le palle in piazza e morivi se tu toccavi qualcuno capito? questo è vero il sistema ti puniva e tu potevi uscire alle due di notte come mi raccontava mia madre che doveva far nascere me stava andando da sola non c'era nessuno perché io sono nato quasi a mezzanotte ed era buio lei era sola stava stava andando alla maternità e e nessuno la sfiora e prova a farlo oggi sta cosa tu donna e giri così sola nel buio in mezzo alla città così di notte prova a farlo questo per dire che gli albanesi quando sono venuti qua li hanno lasciati fare perché erano funzionali al sistema volevano il sistema voleva che ci fossero gli albanesi che rubavano entravano perché così poi hanno la scusa per tirar fuori più stato qualsiasi cosa che vediamo noi ragazzi è per aumentare la forza dello stato qualsiasi cosa le notizie che vedi sull'Ucraina le cose più stato perché tu ti metti paura della bomba atomica e chiedi più difesa questi qua sono entrati questi cazzoni qua sono andati e hanno interrotto una seduta un incontro così comunale a Trieste entrando nella chiamata zoom diciamo no e guarda cosa dicono qua leggi bisogna fare leggi speciali contro i Novax come quelle che vennero fatte a suo tempo per le Brigate Rosse Brigate Rosse erano create dal sistema ragazzi per poi creare sempre lo scopo è sempre quello più stato come far crescere questo mostro e far elevarti sempre di più libertà a te capito allo stesso modo questi qua li lasciano fare perché poi devono creare leggi speciali pecorella ci arrivi ci arrivi quindi ho fatto l'esempio della monnezza per strada che è lì perché lo Stato lo vuole ho fatto l'esempio degli albanesi che sono lì perché lo Stato li vuole che ci siano gli albanesi adesso si è un po' smorzata la cosa però comunque sia e io dico albanese non è che c'è un DNA particolare nell'albanese ragazzi perché come come vedi c'è l'albanese magari ti ruba in casa e poi c'è una bellissima bravissima intelligentissima persona come me sto scherzando e per dire come potevano fare con gli albanesi potevano fare con un altro popolo per dire basta che non li fai più non li mettono dentro ragazzi in Albania come dicevo li appendevano per le palle e quindi nessuno ti fregava in Albania in comunismo ragazzi quindi con questo cosa voglio dire che praticamente il sistema intanto aspettiamo che Gianluca qua chissà qual è il suo vero nome ci risponda ovviamente non lo farà magari il sistema a modo di modificare questa fattoria che siamo noi che ci gestiscono al loro piacimento come tu per esempio con la scossa ci sono tipo con la scossa mandi la pecora per dire ci sono tipo fences come si dice tipo recinti elettrificati dove tu alla pecora tocca al recinto e se ne va invece per la direzione giusta allo stesso concetto loro possono mandarci farci fare le cose come vogliono punendoci e se non puniscono tu ci vai in quella direzione perché loro vogliono che non ci sia corrente lì in quella direzione dove sta andando la pecora capito ragazzi quindi allora tu dici mi puoi dire allora quando è che io sto facendo qualcosa di giusto quando hai il fiato sul collo quando hai la morte che ti sta bussando e lo senti proprio sempre più vicina solo lì stai facendo qualcosa pecorella perché sei praticamente pronta a morire per la libertà ma questi qua questi cazzoni qua che scrivono sta roba qua dove cazzo sta questi qua questi minchioni qua questi al massimo possono prendere la multa ragazzi non è sentire la morte dietro al collo che ti segue qua con sta roba ragazzi poi leggete cosa dicono memoria per l'incuria dei morti di stato quindi loro vogliono che lo stato si curi un po' di più capite ragazzi di che cazzo stiamo parlando loro vogliono più stato ci arrivate? per chi ha cervello ci arriva per gli altri purtroppo io sono un cazzone che fa questi video pace cazzo me ne frega questo è l'uomo l'ancestassio sì questo l'ho già detto secondo me il più di loro questi dementi questi coglioni sono già vi già ariani super super saian e non ebrei come me change my mind perché per far ridere c'è quel famoso tizio in america che fa queste interviste dove apertamente scende in piazza e dice io penso questa cosa qua dai cambiami opinione su questa cosa e di solito fa tipo domande un po' che stuzzicano e irritano le pegore da merda guardate dopo che hanno fatto quell'azione là che sono entrati nella riunione comunale lì di Trieste guardate che cazzo scrivono guardate che dementi loghetti tipo da bambini guardate che cazzoni a parte uno che ha fatto l'errore di entrare con vivi perché liberi e lo hanno urtato ma ormai eravamo tutti dentro e non potevano che subire l'azione vivi invasione guarda che cazzo il pugno duro noi ce l'abbiamo duro l'ok la bomba l'esplosione il martello un po' mi ricorda il comunismo la saetta è abbastanza satanico come simbolo però lasciamo oppure SS mi ricordo anche loro ti chiamano nazisti ah doppio punto esclamativo sto tremando me la sto facendo sotto e poi vv per i morti diciamo vc are we done are we done guys with this bullshit si qua mi è piaciuto il fatto che il sistema stesso li associa alle brigate rosse che è un'altra terroristi creati dal sistema al loro scopo brigate rosse secondo me loro vedevano che la gente scendeva si occupava di politica era abbastanza e loro che fanno fanno fare a quella fazione di gente che secondo loro erano pericolosi perché facevano qualcosa gli fanno fare atti di di terrore ammazzano fanno così li discreditano tutta la quella fazione e quindi creano l'opposizione controllata br o vv come in questo caso ok vv v in cula genluca purtroppo non ci ha più risposto genluca io ti ho dato modo di confrontarmi anche live qua nel video praticamente io sono online adesso come vedete telegram è connesso e genluca da grande guerriero sta ancora dormendo sono le nove si sono le nove e i guerrieri dormono detto questo alla prossima